Botta e risposta tra Matteo Renzi e il presidente turco Erdogan. In un'intervista esclusiva a Rai News 24 ha invitato i giudici italiani ad occuparsi di mafia e non del figlio indagato a Bologna per riciclaggio. I giudici italiani rispondono alla Costituzione e non al presidente turco, replica il Premier. L'indagine potrebbe mettere in difficoltà le nostre relazioni con l'Italia, ha poi avvertito il numero uno di Ancara.